buongiorno a tutti eccoci qua venite tutti al parco a giocare con i ragazzini finalmente dopo anni dopo vent'anni stiamo bene le passeggiate domenicali stiamo facendo merenda assieme i bambini vi facciamo vedere chi vuole può venire tranquillamente questo magnifico parco a monte sacro non non abbiamo nostalgia la nostra era una militanza politica non apprezzata dalla redazione apprezzata dagli ascoltatori noi ringraziamo gli ascoltatori però abbiamo guadagnato un giorno libero della settimana cioè la domenica si era un atto di militanza che ci faceva piacere infinitamente di portare avanti tutte le domeniche non solo si è sospeso per le ragioni che molti sapranno e ora siamo qui stiamo bene la cosa che vogliamo dirmi è che siamo bene ma non preoccupatevi prima o poi torneremo avrete nuove notizie chi lo sa c'è molto tempo la rivoluzione deve cominciare e ha bisogno di noi io abbracciare tutti un saluto caloroso ciao